E adesso Greg Popovic deve disegnare quella che è la quarta rimessa in situazione analoga già disegnata in questo momento e avere una fintina comode di rimesse tra laterali e da fondo in questo momento agli Spurs torna buono Eh sì, aiuta, aiuta, ovviamente deve ricordare quale scegliere ai suoi giocatori non è necessariamente detto che poi debba cambiare rispetto a quelle precedenti però averne tante ti dà sicuramente grande scelta e soprattutto non consente all'allenatore avversario di dare indicazioni troppo precise Pensa a quelli che sono andati a casa a quattro minuti dalla fine regolamentaria e arrivano a casa e ecco, vediamo in televisione quant'è finita, ah no, 127, c'è una replica, no? No, è proprio Golden State San Antonio Veramente, meravigliosa partita Quattro decimi, rimessa di Leonard Ginobili adesso blocca per Parker poi Boristio, Ginobili solo da tre punti sulla sirena Bang! Bang! Mano Ginobili! E figurati se dopo quella fesseria non ti mette questo tiro Figurati! Difficile, la palla è arrivata lenta per il tiratore non è facile mettersi in ritmo quando la palla arriva così lenta è chiaro che la difesa di Golden State è più su un lato forte però non puoi lasciare Ginobili mai, mai, mai a maggior ragione si è fatto una brutta scelta poco prima, però un canestro pazzesco Devastante rimessa di San Antonio e ci vuole la capacità di fare questo passaggio poi per quello che riguarda il tiro non ho nulla da dire non ho nulla da dire, nulla da aggiungere Ripeto, non è facile, vedete, questa è una bella rimessa ma la palla non arriva così forte lui deve riceverla e caricare il tiro per cui è veramente ancora più complicato però è Manu, basta la parola La chiave è che la posizione di Boris Dio non ha permesso al difensore di iniziare il recupero in tempo per chiuderlo se si fosse mosse troppo presto sarebbe stata una schiacciata di Dio Eh sì, questo sicuramente ha costretto la difesa di Golden State di stare sul lato forte adesso vediamo perché in questa partita non mi fido più, può ancora succedere davvero di tutto Naturalmente Golden State con un secondo e due decimi potrebbe pensare a una soluzione per un tiro da tre avrebbe senso per più di un motivo però questo dipende anche dalla situazione difensiva e se vedo bene entra Duncan per un secondo e due decimi Per l'azione difensiva entra Duncan, io credo che come una regola non scritta che è in trasferta soprattutto se hai problemi di falli, due giocatori importanti fuori vai a provare a prendere il tiro per vincere però questo lo sa anche la difesa di San Antonio la prima cosa che vorrà togliere è il tiro da tre 129 Spurs, 127 Warriors, un secondo, due decimi quattro sullo stesso lato in partenza per Mark Jackson un mega stack, l'ultimo è Steph Curry attenzione alla capacità di Curry di liberarsi dopo questi blocchi infatti neanche prende i blocchi esce verso la palla, ricezione impossibile e time out chiesto da Jared Jack si lamenta Jackson dicendo una trattenuta si lamenta anche Pink Myers, ex fortitudo che vedete entrare in campo qui però siamo nel West e non solo per una questione di conference eh sì, nel Far West quasi è chiaro che un fischio lì è difficile che ti arrivi tra l'altro Duncan in campo proprio per mettersi davanti al passatore con braccia lunghe con la sua statura per togliergli il più possibile visuale e poi sui blocchi veramente fisicità e succede un po' di tutto Manu Ginobili il suo tiraccio quello che praticamente ha regalato il vantaggio a Golden State e poi questo tiro c'è tutto Ginobili l'avremmo visto mille volte in questi anni mille volte più si butta giù e più si tira su pochissimi giocatori hanno questa capacità e Popovic è ormai follemente innamorato senza mezzi termini di un giocatore che incarna letteralmente tutto quello in cui crede Greg Popovic e che lo abbia trovato in Argentina e non in Serbia, in Croazia e in Slovenia un po' gli dispiace però deve ammettere che ha trovato veramente quello che cercava nel posto più improbabile del mondo eh però ci ha messo anche il suo bel tempo Manu a convincerlo a farlo innamorare definitivamente però come dice lo stesso Ginobili ci metti del tempo a fargli cambiare idea poi quando ha cambiato idea o comunque quando ha determinato la sua idea quella è l'idea e adesso l'idea è che Ginobili può fare tutto quello che vuole prima non poteva fare niente adesso può fare tutto quello che vuole rimessa di Richard Jefferson pressione di Tim Duncan che continua a guardare per terra per non dare la possibilità all'arbitro di parlargli e di negargli questa passaggio ricezione per Jack Tiro impossibile solo il ferro finisce qui incredibile vittoria di San Antonio incredibile sconfitta di Golden State assomiglia alla sconfitta di Memphis Oklahoma City Steph Curry è un eroe positivo Mark Jackson è un eroe positivo i Warriors hanno giocato una partita pazzesca l'unica cosa che dall'altra parte hanno trovato una squadra che ha dentro qualcosa di molto particolare impersonificato dal giocatore di Bahia Blanca ma questa serie è appena 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 cominciata Manu Ginobili ero libero non potevo fare altro se avessi potuto fare un'altra cosa avrei fatto un'altra cosa perché ho sbagliato tutta la serata però ero libero favolosa partita di Curry ma speravo che si staccasse poi il sesto fallo di Thompson non avevano più azioni Tiago out Tim stick e Boris il primo game dopo tre settimane quindi stavamo stagliando in quella area e i cinque piccoli ci hanno aiutato Boris ha fatto un buon lavoro su Curry anche su switches i cinque piccoli ci hanno aiutato cambiando su Curry devo riposarmi adesso 24 ore ha ricordato che non c'era splitter che Dio non giocava da tre settimane che Tim Duncan aveva un problema lo ha definito sick malato quindi probabilmente influenza o giù di lì e figurati se si può sapere prima che cominci la partita una notizia del genere non esce da Pyongyang Manu Ginobili è l'uomo che verrà ricordato per la tripla eppure 5 su 20 ma anche 11 assist il cuore degli Spurs la grande partita dei Warriors straordinaria straordinaria bellissima partita ci aspettiamo una serie straordinaria si lascia guardare se sarà tutta così ma anche appena meno due grandi squadre e l'unica squadra credo che avrebbe potuto vincere questa partita sono proprio i San Antonio Spurs 1-0 Spurs Golden State battuta ma non certo sconfitta è tutto dall'AT&T Center di San Antonio Texas anche per Davide Pessina con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo in our Atlanta studio in our Atlanta studio